VENEZIA Un secolo fa la città di Venezia fu inserita nell'itinerario del treno speciale che trasportò la Salma del Mini Tegnoto da Aquileia a Roma, in ragione del fatto che durante la Grande Guerra Venezia fu la sede del comando delle forze marittime. Dal novembre 1917 al novembre 1918 Venezia fu la retrovia del fronte del Piave. Alla difesa della città di Venezia parteciparono anche i marinai e i fanti della marina. Questa sera abbiamo vissuto qui a Venezia una grande emozione, quella appunto del treno della memoria, che rinnova appunto l'emozione che probabilmente fu provata da tutta la cittadinanza un secolo fa, quando appunto il convoglio speciale che trasportò il Mini Tegnoto da Aquileia a Roma fece sosta in questa stazione.